Il primo appuntamento con l'open day libero senza prenotazioni è andato molto bene per quanto riguarda i numeri è stato un successo meno bene ma comunque prevedibile andata dal punto di vista organizzativo. Essendo un open day dove non era necessaria la prenotazione la maggior parte delle persone a causa del caldo si sono presentate fin dalle prime ore della mattinata davanti ai cancelli dei centri vaccinali dove comunque sono state effettuate anche le seconde dosi ai prenotati il che in alcuni momenti della giornata ha creato file un po di confusione ed anche nervosismo da parte dell'utenza che non ha gradito la concomitanza open day e richiami. Alla fine della giornata sono state comunque effettuate 5950 vaccinazioni 2021 nei sette centri impegnati anche con l'open day Pfizer. Come azienda siamo molto soddisfatti afferma il direttore generale dell'asla Maria Morgante nonostante l'accesso libero non si sono registrati grossi disagi. La popolazione irpina come sempre ha risposto con entusiasmo. Iniziative come questa sono utili all'obiettivo comune di raggiungere con le vaccinazioni il numero massimo di persone possibile. Ad oggi sono 395.923 le dosi di vaccino somministrate in provincia di Avellino di cui 263.184 prime dosi e 132.739 richiami su 278.707 cittadini che hanno aderito alla campagna vaccinale. Il 94 per cento della popolazione iscritta sulla piattaforma regionale ha ricevuto la prima dose di vaccino il 47 prima e seconda dose.